La cosa di stare là, di stare lì, di stare lì, per la pretenzione che per sicuro l'uomo si verrà, per stare lì. E' sempre stare lì, che no, non so che lì, non so che l'uomo si è affittato, ma non so che l'uomo si è affittato, ma non so che l'uomo si è affittato. La terra è cuffita, cioè le festival a criticano, ma non so che l'uomo si è affittato, che sono affittato. Sì, maemi immagare l'uomo si non RENE nellaumpscare. Mesmo pensando. Grazie a tutti. 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 Sì. Grazie a tutti. 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 Non riusciamo neanche a farne un po'. Un po' così. Vogliamo provare un po' perché sto provando la moto. Facciamo la moto e scendiamo. Senza da fare il giro, arriviamo e torniamo indietro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è solo caccia. Si è fatta bella tosta eh. No, poi non ci arriviamo l'altra volta. Abbiamo girato qui. Bello, bello, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Un certo dopo, quando inizi a vedere quel tubo, si incanala e diventa tutta argilla. ti fa così se non passi subito è finita fondi ma comunque qua prendendola un po più larga si poteva qua sotto è stato un po più complicato questo tratto si fa è la che non è proprio un po' ma non è inesicibile vai la giù vai la giù il vantaggio funziona anche qui ma non darmi le differenze però di non di continuare a prendere 15 perché ci sono veramente una razzata perché non troppo bene che è il golf questo non è proprio niente a terra è stato detto che è stato un po' mappure un tasse e mi potevo pure scoperti anche a sinistra che volevo le volevo anche controllare capito ma non è veramente sinistra ma non è un po' mappure ma non è un po' mappure ma non è un po' mappure Grazie a tutti 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 Grazie a tutti